Innanzitutto grazie a Angela che ha accolto subito il nostro invito, che ci ha ospitato in questo meraviglioso posto. Volevamo fare un falò in amicizia, di condivisione. Io ho portato gli strumenti perché mi piaceva fare una condivisione. Questa sera vorrei celebrare la vita. Qua abbiamo l'energia del fuoco, abbiamo la magia del lago, dell'acqua. Siamo qua in questo posto meraviglioso, in mezzo alla natura. Cioè oggi è una giornata stupenda, ci sono le stelle, c'è sto fuoco. È arrivata anche lei. Bellissima, grazie. Godiamocela tutta, questa magia. Wow. Se ve la sentite ripetiamo insieme questo mantra. Vai, maestro! Vai, maestro! Respiriamo, eh! Non dimentichiamoci di respirare. Godiamocela tutta, questa magia. Wow. Sal�, grazie. Oh no. Ello! Grazie! Grazie a tutti.